Ringraziamo per questo perché comunque io in questo stadio ci sono cresciuto perché venivo a vedere Lascoli ai tempi di Maradona e Zico e avere questa riconoscenza nei confronti dell'entroterra per noi è importante, prima di tutto a livello psicologico e morale perché comunque dobbiamo risollevare la popolazione sotto questo aspetto, l'aspetto economico poi ha anche una rilevanza notevole su questo noi siamo consapevoli che dobbiamo comunque riemergere per quanto riguarda la ricostruzione, ritornare a una vita normale e non abbiamo parole per ringraziare tutti voi, la società sportiva, la tifoseria e tutta la cittadinanza di Ascoli Piceno e dintorni. Noi vogliamo, siamo mondanari quindi siamo tosti diciamo, il governo si è impegnato in determinate cose ci fa piacere che l'Ascoli Calcio, voi non sapete ma tutti gli Arquadani ti fanno Ascoli Calcio vengono anche le trasferte ma da sempre lo siamo e dirò di più e ringrazio in modo particolare i tifosi che quella mattina, l'ho visto io con i miei occhi, vennero a Pescara tra le macerie aiutare a tirar fuori i feriti questo noi non ce lo scordiamo noi di Arquada quindi ecco stiamo vicini alla società perché da sempre ti fiamo Ascoli e voglio appunto ringraziare molto i tifosi che ci sostengono in modo concreto e quindi è anche la società per cui ecco per noi è motivo di orgoglio anche economico ma anche morale perché abbiamo bisogno anche di dopo questa tremenda avventura di ripartire e ripartendo dallo sport per noi è motivo di soddisfazione 45 giorni fa stavamo parlando di altre cose questa è la vita però è chiaro che Ascoli è Ascoli per tanti motivi io oggi è la prima volta che esco dal mio paese non sono andato a vedere la partita della mia squadra però qui ci volevo essere per tanti motivi sia per la vicinanza che mi sta dimostrando la società e la tifoseria ma soprattutto per l'affetto per quei due anni che ho passato qui che fanno parte del mio cuore la vita è così, io dico che solo chi cade si rialza per cui questa qua è una fase importantissima però ecco io vi invito solo a non chiamarci terremotati ma sfrattati a tempo perché chi è terremotato poi lo è per tutta la vita